Cane Babbone Cane Babbone Cane Babbone Ciao anche te Cane Yosha Andiamo a incontrare le papere da mangiare? Certamente Noi vogliamo fare le chiacchiere Va bene basta questa volta Cane? Oh scusa Andiamo adesso Ok Ciao Pobre Ciao anche voi amici Come state? Come state? Noi siamo qui Come state? Noi siamo qui In laghetto Che cosa state qui In laghetto? Stiamo nuotando Sto cercando il cibo Certo Possiamo Offrire cibo alle papere Chi vuoi? D'accordo Ecco a voi Grazie Mangiate questo Grazie Gnom 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 Vole... Ok papere Volete cantare con noi? Certo Possiamo cantare a ballare insieme Pobre 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 Grazie.